Salernitana Bari Il Bari deferito rischia 6 punti. Tutti gli aggiornamenti da Cristian Siciliani e nel Tibi Sport con Enzo Tamborra subito dopo il nostro telegiornale. Sentiamo. Sì, buon pomeriggio. Bari deferito è accusato di responsabilità oggettiva per le presunte convinti in Bari Treviso e Salernitana Bari con l'aggravante dell'illecito sportivo consumato. In termini di classifica la società biancorossa in caso di patteggiamento potrebbe rischiare dai 4 ai 6 punti di penalizzazione. Tre giocatori rinviato al giudizio della disciplinare. L'attuale capitano del Bari Ciccio Caputo con l'accusa di illecito sportivo e il conseguente rischio di una squalifica di tre anni. Nel lungo elenco di calciatori deferiti spicca il nome dell'ex bandiera biancorossa Jean-François Chilet al quale è stato addirittura contestato il doppio illecito. Rinviati a giudizio per omessa denuncia Gazzi e Barreto. Archiviate invece le posizioni dell'ex allenatore biancorosso Antonio Conte e Andrea Ranocchia. Ed è tutto. Lineo allo studio. Si è riunito stamattina a Bari il comitato di sorveglianza del programma operativo FESDR 2007-2013 della Puglia. Presente all'incontro il governatore Nichi Vendola, il servizio di Cristina Ferrini. Oggi la Puglia fa la differenza. Ci viene riconosciuto dalla Commissione europea, ci viene riconosciuto dai ministeri. La Puglia da sola fa il 27% di tutta la spesa europea di tutte le regioni d'Italia. È il frutto del fatto che la Presidenza della Regione Puglia ha preso direttamente in carico il governo di questo settore della programmazione della spesa comunitaria. Sono tutte cose che si trasformano in asilinido, ferrovia, ristrutturazione di pezzi di paesaggio urbano. Cioè gli interventi che producono qualità. Così il governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola, che oggi ha partecipato alla riunione del comitato di sorveglianza del programma operativo FESDR 2007-2013. Il comitato, a margine di un'attività di controllo sulla regolarità delle procedure di impiego dei finanziamenti, ha fatto il punto sullo stato dell'arte delle opere infrastrutturali e dei servizi che rientrano nel programma. Opre che vanno dal settore dell'energia, da fonti rinnovabili, a quelle dei trasporti, al settore della prevenzione dei rischi ambientali. Per quanto riguarda Bari, ricordiamo la realizzazione della bretella ferroviaria del sud-est, per la quale si è ancora in attesa dell'aggiudicazione definitiva dei lavori e per la quale sono stati liquidati oltre 6 milioni di euro. Nei grandi progetti rientra anche l'ampliamento dell'interporto regionale della Puglia e l'adeguamento ferroviario dell'area metropolitana nord-barese per un costo totale di 180 milioni di euro. Tutti progetti che favoriscono l'integrazione della Puglia nello scenario europeo e internazionale, ma mortificate dei limiti imposti dal patto di stabilità, come ribadisce il presidente Vendola. Noi chiediamo di essere liberati da questa prigionia, vogliamo spendere tutte le risorse che ci sono state destinate, siamo in grado di spenderle, siamo in grado di fare cantieri di qualità. Siamo determinati affinché il processo sia rapido, basato su prove inconfutabili e per una soluzione equa e giusta. Così il rappresentante del governo italiano presso l'India nella vicenda dei due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Ginone, Stefan De Mistura, ha risposto sulla vicenda dei due fucilieri italiani, tuttora in India a margine della presentazione presso la radio Vaticana, dell'udienza che domani il Papa concederà a circa 9.000 alunni dei collegi dei Gesuiti d'Italia e Albania. De Mistura ha anche spiegato che ora in India i due marò, accusati di aver ucciso due pescatori indiani nel corso di una missione antipirateria a largo del Kerala, vivono in una situazione completamente diversa, vivono in ambasciata, possono lavorare, insomma hanno una casa, anche se ha precisato la loro casa e la patria, la famiglia, il loro reggimento. Torniamo a parlare della OM Carrelli Elevatori, fumata nera, sul destino dei 230 dipendenti, ieri nel vertice romano tra Chion e Fraser Nash. Ancora nessuna certezza sul perché della brusca interruzione della trattativa, quindi per ora solo ipotesi. Serena Russo. A poche ore dal no definitivo a rilevamento da parte della Fraser Nash, dello stabilimento barese e della OM Carrelli Elevatori, nessuno se la sente di parlare. I dipendenti, un po' perché estremati dal viaggio romano, un po' perché piegati dalle ultimissime notizie, si chiudono, almeno per il momento, nel mutismo. Ci sono ancora tante domande che attendono una risposta su quanto accaduto ieri nel vertice tra la Chion e l'azienda inglese che avrebbe dovuto produrre taxi ibridi, ma anche loro preferiscono nascondersi dietro al vincolo di riservatezza. E allora, in campo al momento, oltre all'unica nefasta certezza, ci sono solo tante congetture sul perché della brusca interruzione della trattativa. Tra le voci più accreditate ci sarebbe l'ipotesi dei vari tavoli che la Fraser Nash avrebbe tenuto in piedi fino a ieri, che hanno infine visto la Chion soccombere, forse perché poco conveniente. C'è chi parla anche di una trattativa dell'azienda inglese in Serbia. E i nodi da dipanare adesso sono tanti, uno tra tutti, il più importante, il futuro dei 230 dipendenti che a fine mese rischiano di entrare in mobilità. Perché la cassa integrazione sta per cessare, a meno che l'azienda proprietaria dello stabilimento di Modugno, la Chion, non la proroghi almeno per un altro anno. Cosa che effettivamente pare essere nei piani dell'azienda, che però in cambio chiede ai dipendenti di porre fine al presidio permanente. Ma loro, i lavoratori, non sono disposti, ora meno che mai, accedere. Non abbiamo nulla da perdere, commentano. Non lasceremo che portino via i macchinari e i carrelli già terminati, a meno che i soldi derivanti dalla loro vendita non vengano divisi tra di noi al termine della cassa integrazione, come risarcimento danni. Proposta questa verbalizzata, ma su cui la Chion non si è ancora espressa. Anche l'assessore a lavoro, Leo Caroli, per il momento tace, dopo l'annuncio ieri sera di azioni illegali contro la Fraser Nash, che ha crudelmente illuso tantissime persone per così tanto tempo. E Saverio Gramegna della FIOM CGL non le manda a dire, ci va giù pesante. Non siamo stati capaci di reagire. In Italia questo genere di situazioni terminano sempre così. E intanto dei sindacati, che questa mattina si sono riuniti, si attendono le prossime mosse. Passiamo alla cronaca. Un altro esercizio commerciale a Bari è stato preso di mira da vandali che la notte scorsa gli hanno dato fuoco, provocandone la quasi totale distruzione. Il secondo episodio nel giro di soli quattro giorni in servizio di Cristina Ferrigny. Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio scoppiato la notte scorsa a Bari, nei locali della pizzeria Risto Pizza Barese Camilla, in via Camillo Rosalba, Poggio Franco. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia San Paolo che non escludono l'ipotesi di un gesto volontario nonostante non sia stata trovata traccia di materiale o liquido infiammabile. Il locale è stato quasi totalmente distrutto dal rogo. Solo pochi giorni fa, nella notte tra sabato e domenica, le fiamme hanno mandato in rovina a un bar sul lungomare 9 Maggio nel quartiere San Girolamo di Bari. Il bar Il Divine Caffè è di proprietà di una donna di 50 anni. Alla luce di questi ultimi episodi, l'attenzione delle forze dell'ordine si concentra nei locali di intrattenimento della Movida Barese dove sembra riaffacciarsi l'incubo del racket e delle estorsioni. I carabinieri hanno arrestato un cittadino di origine indiane di 35 anni, residente a Mudugno, con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo è accusato di avere aggredito un cittadino di nazionalità marocchina di 39 anni, colpendolo più volte con una catena in ferro per sottragli 200 euro. La vittima della rapina ha riportato la rottura del Malleolo ed è stata dimessa dall'ospedale con 30 giorni di prognosi. I residenti del quartiere San Girolamo da fine giugno potranno contare sulla presenza di un bus navetta che collegherà il quartiere con le piscine comunali. Possono tirare un sospiro di sollievo i residenti di San Girolamo che da fine giugno potranno contare per i loro spostamenti sull'istituzione di un bus navetta che collegherà il quartiere con le piscine comunali. Il problema della inadeguatezza del trasporto pubblico era stato posto all'indomani dell'istituzione della linea 54. Progetto sperimentale o è pensato per andare incontro alle esigenze di chi, da via Brigata Regina, aveva necessità di raggiungere il policlinico. Una sperimentazione è andata certamente a buon fine ma che aveva privato per via del rispetto del chilometraggio previsto la linea 22 di 4 fermate nelle ore pomeridiane. Ma proprio ieri mattina l'ok tra il presidente di circoscrizione Dino Tartarino e i vertici dell'Antab sull'istituzione della navetta. Non vogliamo lasciare spiazzati i cittadini di Fesca e San Girolamo e avevamo pensato giustamente di istituire un bus navetta che collegasse Fesca con le piscine comunali in maniera tale da poter prendere poi una svariata di numeri urbani. Questo naturalmente faciliterebbe e naturalmente in un certo qual modo andiamo anche ad accelerare quelli che sono i tempi di attesa degli abitanti di Fesca e San Girolamo per poter meglio usufruire dei mezzi pubblici. Campagna Amica e Coldiretti presentano i prodotti di Puglia ai turisti che sbarcano nel porto di Bari. Con due stand davanti al Terminal Crocele le associazioni incitano i turisti a gustare e ad acquistare i prodotti di Terra Nostra. Lo hanno fatto oggi per la prima volta in concomitanza con l'approdo della nave da crociera Main Shift 2 della compagnia TUI Cruises proveniente da Cotor e diretta a Corfu con itinerario croceristico settimanale nell'Adriatico con partenza da Malta e toccate a Dubrovnik, Bari e Corfu. Si terrà anche quest'anno nonostante le difficoltà economiche che colpiscono il settore della musica e dello spettacolo il festival jazz estivo della camerata musicale barese Notti di Stelle. Grazie al patrocinio di Provincia e Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia la rassegna aggiunta alla 25esima edizione tornerà a Bari e si svolgerà nel Teatro Petruzzelli. Anteprima il 19 luglio con Nina Zilli e Fabrizio Bosso e la loro band in Wheel of You con Jazz and Soul da Amy Winehouse a Nina Simone stamattina la presentazione del programma in una conferenza stampa nel Palazzo della Provincia. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 24 e 15 gradi, venti moderati, mare poco mosso. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. Il telegiornale finisce qui. Grazie per averci seguito più tardi con l'informazione di Telebari. Grazie per averci seguito più tardi con l'informazione di Telebari.